Come ridurre la cistite da stress con semplici e buone abitudini positive? Lo stress è infatti uno dei problemi più importanti che affrontiamo nella società attuale e se sottovalutato può indebolire le condizioni di salute del nostro organismo, indebolendo il sistema immunitario e rendendolo più esposto a infiammazioni o infezioni gravi come per esempio in noi donne la cistite da stress. In questi casi i batteri trovano l'ambiente ideale per attaccare la vescica e le vie urinarie. Uroxin 4G è l'alleato ideale per combattere la cistite da stress. È un integratore alimentare a base di dimannosio ed è semplicissimo da utilizzare perché basta sciogliere in acqua queste bustine. Cosa può aiutare? Bere almeno un litro e mezzo o due litri di acqua al giorno, consumare tanta frutta e verdura e magari evitare il consumo di cibi piccanti, molto speziati, cioccolato, zucchero, caffè che possono favorire l'infiammazione. Bandire bevande zuccherine e alcolici o superalcolici, potenti irritanti di tutte le mucose dell'organismo, vescica compresa. Scegliere come alleato un integratore efficace come Uroxin 4G con una formulazione completa ed innovativa. Per esempio contiene dimannosio e procutin, una miscela brevettata per combattere dolore e infiammazione. Bastano una o due bustine al giorno. Scegliere come alleato e infiammazione.